Siamo con Niccolò Piuli, il legionario calcarese appena terminata 1 a 1, per voi è il secondo risultato utile consecutivo. Una buona prova nel complesso, come si è detto anche con Mr. Tobiè, è mancata forse un po' di cattiveria, un po' di incisività per trovare la rete che vi avrebbe permesso di portare a casa i tre punti. Siamo partiti forte, abbiamo sprecato tante occasioni che dobbiamo cercare di allenare in settimana, dobbiamo cercare di migliorare. La finalizzazione è importante, ci consente di portare a casa i tre punti. È un gruppo comunque molto nuovo, che sta lavorando passo dopo passo, che sensazioni si respirano all'interno dello spogliatoio, dove potete arrivare in questa stagione, in questo campionato che è comunque molto competitivo. Sì, l'hai detto bene, il campionato è molto competitivo, noi come squadra siamo una squadra prevalentemente giovane, però ti posso dire che a primi ogni singolo siamo molto bravi. dobbiamo continuare ad allenarci come stanno facendo i tuoi giorni di settimana e sono sicuro che riusciremo a portare qualcosa di buono a casa. A livello personale, che obiettivi ti poni per questa nuova avventura qui a Legge? Intanto arriva in doppia cifra, al momento sono partito un po' male, ma recupererò. E poi, vista la squadra, vista la società che abbiamo dietro, arrivare almeno a cercare di fare i play-off. E poi, vista la società che abbiamo dietro, arrivare almeno a cercare di fare i play-off.